Sono Vale03, questo è un video rapidissimo e appunto vi dirò i risultati del sondaggio cosa ho deciso allora ho fatto un sondaggio su Youtube e un sondaggio su Instagram ho fatto le medie delle percentuali di gradimento e diciamo ovviamente facendo il totale non corrispondono al 100% tutti insieme però comunque la media di gradimento la gradimento media tra Instagram e Youtube perché comunque ci sono stati due sondaggi allora gameplay sul cellulare e Playstation il gradimento è 38.5 gradimento ho detto invece no, gradimento è 38.5% di media con un 63% su Instagram e 14% su Youtube poi abbiamo leggere segreti su In Segreto allora questo ha fatto il 47% con 37% su Instagram e 57% su Youtube e poi gameplay di calcio 39% per 0.5% ha vinto su gameplay sul cellulare e la Playstation 39% con 50% su Instagram e 28% su Youtube poi abbiamo i post partita con 50% su Instagram e 0% su Youtube con 25% di media allora ragazzi quindi ho deciso di portare di leggere segreti su In Segreto però qualche volta farò qualche gameplay di calcio su FIFA magari farò qualche live farò più live su FIFA però non è detto che siccome comunque c'è un gradimento molto alto per il gameplay sul cellulare e sulla Playstation su di altri tipi di giochi non è detto che io non faccia questo post partita li porterò ma porterò dei post partita praticamente ogni morte di Papa quando giocherà la Nazionale quando ci saranno dei video importanti da fare magari il Napoli contro la Juve big match del genere ragazzi e beh questo è tutto ragazzi io finisco il video ci ciao